Sì, va bene, va bene, scaricami la curva lì. Sì, è bello, eh? Sì, è caricato tutto? Sì, è bello. Ok? Chiudi! Sì, è vero. Sì, è vero. Guarda questo quartiere che ha dentro i cavalli. Sì, eccezionale. Sì, ecco, 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 ecco. Wow, che bello! Oh, ho fatto la cacca. Bravo. Sì, ecco, ecco. Buongiorno, grazie. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Bene, vai. Ciao. 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 arriviamo quindi andrea non ce ne puoi non so che l'ho sentito prima grazie